Eccoci qua ragazzi Allora Roberto già c'ha paura No dai Salimo che ti devo dire? Occhio a due metipiti che si potrebbe cadere da qualche parte Ecco appunto Ecco dove vanno a finire tutte le bombolette di carnevale raga E questo che cos'ha? Eh raga non so aprirlo Sembra ancora più a scat... Wow Intrigante Che è successo? Ma Non so che cosa sia questo qua Devo dire la verità Che c'è stato è bello Però a stessi agli sono veramente carucci Sembra che io quelle delle fiabbe Che c'è stato Roby? Vento Ah Pensavo avessi visto o sentito qualcosa Credo sia il vento Dai E se a qualcuno quanto cazzo dovesse altro Per intruppare qualcosa Che cazzo è lo Slenderman Allora dobbiamo Procedere Uscire? No Non tutto Segui me Aia Lì qua Allora dobbiamo Questo era chiuso Accendi la per la torcia Ma ora la puoi accendere Dai forse Ma scusami Ma ora la puoi accendere E' la chiuso Iscriviti Come nebiò Grazie.